Altra boccata d'aria ragazzi, non se ne può più, è difficilissimo, sono appena tornato alla farmacia a prendere alcune cosine per casa come disinfettanti e quant'altro, ma vi volevo soffermare su un aspetto. La federazione ciclistica italiana ha finalmente chiarito la sua posizione, cioè ha imposto a tutti i suoi tesserati di non uscire in bicicletta. Era giusto, era auspicabile, ci ha messo un po' per definire bene la sua posizione, anche perché le cose sono cambiate in modo molto repentino e non si sono fatti trovare abbastanza pronti. Nei comunicati precedenti c'era molta confusione da parte della federazione ciclistica italiana, quindi se sei un tesserato della federazione ciclistica italiana, la tua federazione ti impone l'obbligo di non uscire in bicicletta. Puoi fare altre cose, l'ho già detto mille volte, ma non puoi uscire in bicicletta, anche perché diciamocelo ragazzi, hanno vietato i funerali, cioè se una persona dovesse mancare in questo periodo non si possono celebrare i funerali. Hanno vietato i matrimoni, se una coppia si vuole sposare, in questo periodo non ci si può sposare, hanno annullato praticamente tutto. La nostra vita sociale è pari a zero e bene ha fatto, secondo me, la federazione ciclistica italiana a imporre questo divieto, lo ha fatto emanando anch'essa una direttiva che va ad ampliare e ad specificare la posizione della federazione rispetto a quella che aveva emanato precedentemente. Quindi, se non volete dare retta a me, che sono un biscaro qualunque che fa video su YouTube e pedala indoor in cantina di questi tempi, date retta alla vostra federazione. Io sono iscritto alla federazione italiana Triathlon e anche se la federazione italiana Triathlon non ha emesso un comunicato, io comunque me ne sto tranquillo a casa. Anche perché fino all'ultimo decreto, l'articolo 1 al punto 3 diceva che si poteva comunque fare sport all'aria aperta, mantenendo però la distanza di sicurezza. Questo ha creato un po' di confusione e qualcuno si è sentito anche autorizzato ad uscire in bicicletta, dobbiamo dirla tutta, dobbiamo raccontare le cose come stanno. Ovviamente, se si usa il buon senso, non si ha bisogno dell'articolo 1.3, si dice io me ne sto bellino in casa e buonanotte al secchio. Quindi, ragazzi, ve lo dico ancora, ci sono mille modi per allenarsi, ci alleniamo insieme su Swift, come avete visto in questi giorni. Quotidianamente, tranne quando sono al lavoro, lancio un meetup per pedalare insieme, quindi se volete si pedala tutti insieme su Swift, ma non uscite in strada, lo dice anche la federazione ciclistica italiana. Ok, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo argomento, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!